Do la parola a Marco Meloni che ha svolto una relazione finale con la supervisione del professor Fulvio Venturino. Il notissimo studente Meloni ha affrontato un tema, un oggetto della sua tesi, il capitale sociale, un concetto che nasce, uno strumento di analisi che nasce a metà fra scienza politica e sociologia. È un capitale produttivo in quanto può portare a dei risultati, può portare a degli effetti così come può negarli. È inoltre, a differenza degli altri capitali, un capitale che non è insito né nelle persone né negli input produttivi, bensì è insito nella struttura sociale. Quindi è un capitale che, definito come capitale produttivo, è anche bene comune. Si basa su una visione di Patnam per il quale il capitale sociale può e deve essere motore di sviluppo, anche dello sviluppo economico. Mi devo concludere dicendo che probabilmente la riflessione che si può trarre da questi due studi, da queste due indagini, non è tanto discutere se è andato prima l'uovo o la gallina, se si ha il capitale sociale a sviluppare l'economia o l'economia a sviluppare il capitale sociale, ma quando prendere atto che si vuole intaccare i problemi strutturali del Paese, ci si dovranno occupare dei problemi sociali così come dei problemi strutturali del Paese. La Commissione ha approvato il suo esame di laurea, in virtù dei poteri conferiti dalla legge al magnifico rettore e da questi a me delegati, la proclama dottore in scienze politiche con punto 110 su 110. La Commissione ha approvato il suo esame di laurea, in virtù dei poteri conferiti dalla legge al